La manifestazione di venerdì, di cui tutti sappiamo, è un grande gesto e un grande segno di una città, quella di Padova, che vive e respira la parola accoglienza. La cosa bella che stiamo vivendo in questi giorni, molto pesanti per noi, è la sensazione di, attraverso la parola accoglienza, riuscire ad unire la città di Padova. Una manifestazione che probabilmente da tanto tempo non si vedeva, non si respirava a Padova, una manifestazione che sta nascendo per dire la bellezza che c'è nella città di Padova, di mettere insieme persone diverse e culture diverse. La cosa straordinaria non è che facciamo una manifestazione solamente a favore dell'accoglienza dei migranti, la cosa straordinaria è che mettiamo insieme noi persone diverse, soggetti diversi, realtà diverse, organizzazioni diverse, unite attorno ad un grande valore. Questa è l'unità che nasce dai valori e credo che, almeno la mia organizzazione, ma credo l'organizzazione di tutti qui, abbiamo bisogno di respirare momenti di unità che ci permettano insieme di costruire qualcosa, in questo caso una città da un volto umano. Grazie.